E' un Dio con giacca zebrata e scarpe da ginnastica, quello che calcherà il palcoscenico del piccolo Eliseo di Roma fino all'8 gennaio in Paradiso 2.0, un atto di Dio. Spettacolo scritto da David Javerbaum, diretto da Nicoletta Robello Bracciforti, con Roberto Ciuffoli che ha partecipato all'adattamento del testo e interpreta Dio in persona. E' un autore americano importante, bravo e lo spettacolo è rappresentato anche a Broadway, adesso in contemporanea, appena hanno saputo che lo facevamo noi qua, subito sono corsi, americani sono fatti così. Questo Dio 2.0, anche se tecnologicamente all'avanguardia, è quello dell'Antico Testamento, severo e un po' iracondo, che torna sulla Terra per annunciare i suoi nuovi dieci comandamenti e per chiarire una volta per tutte cosa vorrebbe dal genere umano che ha spesso mal interpretato le sue parole. Vuol dare altre indicazioni perché parte dal presupposto che un lavoro fatto in una settimana, qualche pecca l'avrà pure avuta, ma è simpatico perché è un po' conflittuale, come dire ma io l'ho fatto così eppure voi avete fatto questa, ma allora sono io che sono anche così, perché se no però io l'ho fatto perché voi me l'avete permesso, perché voi mi avete trovato delle giustificazioni, però io avrei fatto... è un conflitto continuo, è un po' come il... sì davvero il padre che trova una sua conflittualità in famiglia con i propri figli, quindi c'è sì un rinfacciarsi delle cose, ma c'è sempre questo con una base di affetto che è importante. Sul palcoscenico Dio è accompagnato da due angeli alati, Gabriele e Michele, e per dimostrare che è un Dio che conosce bene il proprio mondo, fa riferimenti molto attuali da Equitalia alla Raggi. C'è un testo che fa anche riflettere perché ha delle sfaccettature insomma interessanti, ma è un testo divertente, quindi riuscire a rendere tutte e due le cose è una bella prova, io spero di essere in grado, spero di riuscirci.